Una grazia immediata ti arriverà, se invocherai San Martino ora. Nel cuore della nostra esistenza, nei momenti più bui e nelle prove più ardue, ci rivolgiamo ai Santi, guide spirituali e intercessori presso Dio. Uno di questi Santi, che ha toccato innumerevoli vite con il suo esempio di carità, umiltà e miracoli, è San Martino. La sua vita è stata un faro di luce che ha illuminato i cammini più oscuri, un testimone della misericordia divina che non conosce confini. Con cuore aperto e mente fiduciosa, ci inginocchiamo ora, invocando il suo aiuto. Con fervore e speranza, chiediamo a San Martino di intercedere per noi, affinché possiamo ricevere quel miracolo immediato e la grazia profonda che desideriamo ardentemente. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. O glorioso San Martino, santo di infinita carità e umiltà, tu che hai vissuto con amore e compassione, ascolta la nostra supplica in questo momento di bisogno. San Martino, tu che hai donato il tuo mantello per riscaldare un povero bisognoso, donaci ora il calore della tua intercessione. Rivolgiamo a te il nostro cuore pieno di speranza, implorandoti di presentare le nostre preghiere a Dio. In te confidiamo, o santo miracoloso, perché conosci le nostre pene e le nostre gioie. Conosci i desideri più profondi del nostro cuore, le sofferenze che ci affliggono e le speranze che ci sostengono. San Martino, potente intercessore, chiediamo con umiltà un miracolo immediato. Che la tua grazia ci tocchi ora, portando guarigione dove c'è malattia, pace dove c'è tumulto, e speranza dove c'è disperazione. Tu, che sei stato strumento di miracoli sulla terra, fa' che anche noi possiamo sperimentare la potenza del tuo amore e della tua fede. Che la nostra preghiera sia accolta con favore, e che la grazia che imploriamo ci sia concessa. San Martino, sostegno dei bisognosi, guida e protettore nostro, accompagnaci lungo il cammino della vita, consolaci nelle nostre prove e rendi forte la nostra fede in Dio. In te confidiamo, glorioso San Martino, ora e per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, Amen. Grazie a tutti.